Apertura straordinaria lunedì 1 gennaio 2024 per la mostra Boldini, The Nittis et les Italien de Paris. In corso al castello di Novara e proposta dall'associazione Metz percorsi d'arte. Il percorso espositivo, articolato in otto sezioni, segue come di consueto l'andamento delle suggestive sale del castello e si propone... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.